La un'ora passo, alle 7 stiamo là, va bene? La un'ora passo, alle 8 stiamo là, va bene? La un'ora passo, alle 8 stiamo là, va bene? La un'ora passo, alle 8 stiamo là, va bene? La un'ora passo, alle 8 stiamo là, va bene? La un'ora passo, alle 8 stiamo là, va bene? La un'ora passo, alle 8 stiamo là, va bene? La un'ora passo, alle 8 stiamo là, va bene? La un'ora passo, alle 8 stiamo là, va bene? La un'ora passo, alle 8 stiamo là, va bene? Grazie a tutti. 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 Ciao. Ciao.